Manzotin ti dà sempre di più Parliamo di Manzotin, mi dica quello che ne pensa Buona, è una carne buonissima Adesso in offerta speciale trovo comoda Perché specialmente in casa mia che siamo a quattro figli E adesso Manzotin le fa un bel regalo Le regala dieci secondi, dica quello che vuole Io chiedo di fare una buona vecchiaia Io e mio marito e auguro tanta felicità E un'Italia migliore per i nostri ragazzi E Manzotin è con lei Grazie Manzotin, quattro al prezzo di tre Ti dà sempre di più